buongiorno buongiorno dal dottor Claudio Saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di csv era professionale con la v maiuscolo oggi ragazzi risponderò a dei signori che mi parlano dottore come si fa per stare bene per stare bene perché mi sento quel vuoto esistenziale mi sento di non essere contento di ciò che faccio di ciò che respiro di ciò che ho attorno a me bene io gli ho risposto che bisogna utilizzare l'ipnosi di csv era professionale per un semplice motivo perché non c'è nessun farmaco che ti elimini la causa la causa e non i sintomi ricordati i farmaci sono per i sintomi del di quel ricordo di quell'immagine il tuo passato negativo che ti fa stare male che non ti fa essere contento frustrato come d'altronde era il sottoscritto quando erano studente lavoratore senza una lira in tasca finché non elimini il senso di colpa per un motivo x che soltanto il tuo subconscio conosce che alberga nella tua subcosciente nel tuo piloto automatico che qualcuno vittima di altre vittime ti ha instillato magari anche a fin di bene vedi i genitori vedi il terzo genitore della televisione eccetera eccetera perché dimostra magari film di chi muore di fame di chi muore di freddo chi di chi muore di caldo eccetera eccetera e tu ti sei convinto che quasi quasi la colpa è tua perché la colpa è tua perché qualcuno ti ha detto che peccato come diceva mia madre a me quando lasciavo un po di pasta mangia mangia che c'è gente che muore di fame nel mondo bene questa frase mi faceva sentire in colpa e le colpe purtroppo portano anche possono portare anche a quel vuoto esistenziale anche a malattia anche all'infelicità sembra un paradosso ma è così ora l'impiosi di cese cosa fa ci sono diversi metodi anche con uno solo audio mp3 di cese come ad esempio no passato negativo te ne puoi uscire anche da solo risparmiando una montagna di soldi oppure magari siccome il sottoscritto ha sospeso al momento le sessioni online di ipnosi di cese vera e professionale in tutto il mondo sederti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona della tua città che però ascoltami bene abbia già affrontato casi del genere di farti stare bene con l'ipnosi con questa grandissima arte scienza e iniziare un percorso come faccio a capire che ho davanti se hai già affrontato casi come il mio perché qui ragazzi nel mondo dell'ipnosi che nessuno ti dirà mai è la parola importante come viene creata ed incastrata per aprire le porte del tuo subcosciente e farti liberare liberati dalle catene del tuo passato negativo fai le domande caro professionista lei ha già affrontato casi come il mio quanto costi quanto non costi quanto tempo bla 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 e poi inizio oppure naturalmente esiste l'ipnosi regressiva che questo è uno stadio successivo oppure i cd personalizzati gli mp3 personalizzati se uno non vuole andare a girare cappelle che significa che si regredisce ipnoticamente a quel primo momento che ti ha causato quel problema e si cancella la causa che ti crea quella frustrazione con l'insoddisfazione quell'apatia rifletti apatia io mi svegliavo a modena da studente lavoratore senzioni in tasca le mie mani tremavano avevo un peso al petto e mi chiedevo da ignoranti in materia perché all'epoca non conoscevo né l'ipnosi né i poteri della mente nelle leggi mentali nel manuale delle istruzioni di questa cucuzza mi chiedevo ma scusa perché sono così agitato 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 mi sento frustrato apatico non ho litigato con mia madre non ho litigato con i miei fratelli non mi sono offeso non mi hanno offeso allora con gli amici con i colleghi bla 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 perché allora tutta sta cosa perché 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 sicuramente arrivava a galla stimolato da un non so che di inconscio perché ricordati il nostro subcosciente registra e guardo ovunque mentre stiamo parlando io e te qua tu mi ascolti io parlo il subconscio mio e tuo registrano tutto ciò che gira attorno a te e a me per cui sicuramente qualcosa aveva portato a galla l'insoddisfazione la frustrazione all'impotenza possiamo dire di quando ero un ragazzino dove vedevo gli altri che si permettevano tutto di più vedevo anche la televisione che mostrava una vita dei dei irrealizzabili illusoria ed il sottoscritto è nato è cresciuto in una famiglia povera e dignitosissima non poteva mai permettersi ma siccome erano entrati nella mia mente nel mio cosciente quei modelli quei pattern che pubblicitari poteri forti vogliono che entrino e non potendo soddisfarli chiudere il cerchio mi sentivo frustrato come se mi mancasse qualcosa ora con l'improsi di cs vera professionale puoi liberare questo cerchio e vivere veramente contento come nei tuoi giorni migliori immagina quando ti svegli la mattina felice di vivere felice di respirare felice di camminare che vita bella è vero bene con l'ipnosi di cs vera professionale può ottenere tutto ciò lo dice il sottoscritto è che oltre ad essere un professionista dell'ipnosi di cs vera professionale soprattutto un mentore perché io dal 2008 ad oggi fine 2020 mi auto ipnotizzo h24 e anche adesso sono ipnotizzato pur non sembrando né al comune mortale aggiungo neanche al professionista di altre discipline ipnotiche fammi tutte le domande del caso visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino il mio sito internet www.iprologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cs il dottor claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a me tanti e tanti anni fa anche con un solo audio mp3 dicesi ti può scaricare liberamente al sito internet www.iprologiassociati.com se solo se seguirà le istruzioni molto facili alla prova di un nono alla prova di un piccolo alla prova di un idiota che non trovi in giro su gestioni molto potenti naturale senza nessun effetto collaterale perché si tratta solo di parole create ad hoc ad arte che ti fanno solo bene 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 e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cs il dottor claudio saracino e ricorda non è nulla di impossibile vivere e stare bene con se stessi e con gli altri se solo se sai come fare se non lo sai purtroppo credi al destino non è colpa mia questa è la mia faccia come dice qualcuno che non vuole cambiare perché nessuno gli ha inculcato il seme del provarci del non arrendersi mai un bacio un abbraccio il dottor claudio saracino alla prossima ciò